Gli stranieri residenti nel comune di Arezzo sono 11.000, di cui 5.750 comunitari, circa il 52,26%. Per loro, comune, comunità rumene e polacca hanno lanciato questa mattina un appello per promuovere il diritto al voto in occasione delle prossime elezioni europee del 25 maggio. Ad Arezzo solo il 3,1% degli aventi diritto è scritto alle liste aggiunte per le elezioni europee e il 16% per le amministrative. Assolutamente i diritti politici sono una parte fondamentale dell'integrazione, vogliono dire partecipare al governo e alle scelte del paese dove si vive. E questo responsabilizza anche e rende più impegnati anche nello sviluppo e nel benessere del paese in cui si vive. E poi è importante anche il contributo dei nuovi cittadini in un momento in cui la fiducia nella politica purtroppo è in calo. E anche per quanto riguarda le elezioni del Parlamento europeo ci sono movimenti populisti anti-europei che minano anche le prossime elezioni. Quindi è importante promuovere con tutti i mezzi la partecipazione dei cittadini a questo grandissimo progetto anche che è l'Unione Europea. Ai cittadini comunitari residenti ad Arezzo che sono in gran parte romeni, polacchi e poi ungheresi e in numeri minore altre nazionalità possono votare alle elezioni europee e alle elezioni amministrative. Per farlo devono iscriversi alle liste elettorali aggiunte del Comune entro il 24 febbraio. Per Arezzo in piazza Fanfani allo sportello unico per gli altri comuni nella sede del Comune di Residenza.